Ci volevano divisi, invece ci hanno unito. Ci volevano deboli e noi siamo diventati più forti. Ci volevano in pochi, ma noi riempiamo le piazze di tutto il mondo. I cittadini liberi di Pesaro tornano a farsi sentire, ma questa volta con l'arte, il movimento che difende la democrazia definita in pericolo per via delle norme anticontagio e delle scelte del governo sulla gestione della pandemia continua a battersi per i diritti e la libertà, organizzando un evento insieme ad amici e ospiti d'eccezione. Arte Vita sarà una manifestazione per l'arte e per la creatività, quindi qualcosa di propositivo e di non oppositivo, perché già da tempo abbiamo smesso di chiedere concessioni, favori a chi in una maniera così oppressiva o così opprimente da due anni conduce la vita politica in questo nostro malandato paese. Quindi sarà un inno alla creatività, all'arte che sono le principali prerogative dell'essere umano. Con la creatività tutto si crea, noi siamo creatori, siamo artefici del nostro destino e sarà quello che celebreremo questo 6 marzo al Parco Miralfiore a Pesaro. L'iniziativa che si svolgerà dalle 15 alle 19 vedrà la partecipazione di diversi relatori, tra cui lo scrittore Andrea Bizzocchi e lo scrittore e alchimista Michele Giovagnoli, che gira le piazze di tutta Italia con il suo augura d'amore per dire no al vaccino anti-covid e all'obbligo del lasciapassare. Sul fronte artistico avremo un ospite di eccezione come Patrizio Fariselli, il mitico fondatore e tastierista degli area, il più grande gruppo rock che il nostro paese avanta e anche lui come il sottoscritto uno dei pochi musicisti schierati contro questo apartheid culturale. Infatti sarà l'occasione per gli spiriti liberi che condividono il nostro pensiero di poter usufruire dell'arte senza questo certificato verde di obbedienza, come chiamato quindi Green Pass con una ridicola nomenclatura. Tutto questo è reso possibile grazie ai cittadini liberi di Pesaro che è questo gruppo sempre più grosso di cittadini liberi che si trovano intorno ad un ideale comune che è quello di essere naturalmente liberi, consapevoli, sapere quali sono i nostri diritti e di non dimenticare da dove veniamo e chi siamo senza farci indurre paure o programmazioni neurolinguistiche che è il tipico modo con cui il nostro governo e altri governi operano, ipnotizzando le persone, raccontando loro menzogne da due anni a questa parte ma in realtà molto prima che puntualmente vengono sbugiardate. Cittadini liberi di Pesaro sono una sorta di società dentro la società, noi abbiamo tutti i principali elementi, soddisfiamo i principali bisogni come la scuola, abbiamo la scuola parentale, il gruppo delle terapie domiciliari che funzionano, lo posso dire io per esperienza diretta, abbiamo un gruppo di assistenza legale, abbiamo degli orti condivisi e garantiamo in una qualche maniera la sopravvivenza a chi non si è piegato a questo assurdo di ICTAT. Quindi diamo appuntamento a tutti gli spiriti liberi che condividono questo nostro pensiero a Pesaro domenica 6 marzo dalle ore 15. Parco Miralfiore. Grazie a tutti.